è sabato notte e in questo momento molti di voi avranno di meglio da fare che stare a ascoltare noi la radio molti avranno di peggio da fare molti se la stanno spassando sono sicuro ma sono convinto che tanti di voi che guarda casa avranno 18 20 anni sono lì che non si lasciano stare neanche a quest'ora di sabato io non so come era avere 18 20 anni negli anni 50 o 60 so cosa vuol dire per me per tanti altri averli adesso è un gran casino c'è un gran movimento in giro non so dire se è bello brutto però però è veloce e ci sono appunto quelli che non si lasciano stare vuoi dire che tocca a me secondo me sì e in mezzo a tutto questo c'è il nostro bisogno di saperne di più stiamo viaggiando senza cartina o con una cartina illeggibile beh secondo me è arrivato il momento che questa cartina ce la facciamo noi e una volta fatta la facciamo circolare si dicono un sacco di stronzate sull'eroina è vero tu ad esempio come hai cominciato io mi sono lasciato cominciare è stato una tipa a farmi provare a me non sarebbe mai venuto in mente di infilarmi una guinvena e perché hai lasciato che lei lo facesse beh probabilmente quella volta più che chiedermi perché mi sono chiesto perché no e Grazie a tutti.